Verso le 18 è arrivata una telefonata alla centrale operativa di una persona che diceva che una macchina aveva colliso con quella che lui stava guidando. In questo evento però aveva potuto notare che la macchina marciava in maniera anomala, zigzag, e vi erano anche alcuni bambini a bordo. Si era messa al volante ubriaca con un tasso alcolemico ben quattro volte superiore al consentito, con i bambini piccoli in auto. Nei guai è così finita una giovane a retina. La donna è stata fermata e denunciata mentre guidava a zigzag per le vie del centro dalla polizia locale di Arezzo. È arrivato l'etilometro e ha dato un risultato che noi abbiamo ritenuto devastante perché il risultato è stato di 2.18. Per la donna ovviamente è scattato il ritiro della patente e la denuncia alla polizia locale. Sempre nella giornata di ieri ha ritirato anche un'altra patente sempre per guida in stato di ebrezza. Questa persona aveva un tasso alcolemico di 0,89 e ovviamente essendo superiore a 0,80 si entra nel campo del penale. Anche in questo caso il reato è stato segnalato alla procura della Repubblica di Arezzo. Si tratta di un fenomeno, quello della guida dopo aver consumato alcoolice stupefacenti che inizia a pesare anche nella realtà a retina. È bene che i cittadini a retini si rendano conto che mettersi alla guida, molte volte anche terminando un pasto abbondante con un tasso alcolemico superiore a quello che la legge prescrive, il codice della strada nel caso di specie, è un grande pericolo. Nel comune di Arezzo la polizia locale nel 2017 è elevato 34 multe, l'anno precedente erano state 23, 17 invece quelle elevate solamente nei primi sei mesi del 2018.